I nuovi casi covid in Abruzzo sono ogni giorno di più, ma la situazione non preoccupa molto in regione. Ci sono delle zone dove l'incidenza del virus è più alta che altrove, come nella città di Pescara o nella provincia di Teramo, ma grazie al sistema di tracciamento, dice al TG6 l'assessore alla salute Nicoletta Verì, i focolai sono stati circoscritti. Ad ogni modo, rassicura l'assessore, l'Abruzzo non rischia di essere posto in zona gialla. Abbiamo un aumento dei casi in maniera esponenziale, così come tutte le regioni della nostra nazione. Un aumento in modo particolare colpisce l'età pediatrica e quindi una maggiore trasmissibilità del virus, in quanto il contagio poi c'è nell'ambito non solo familiare, ma anche scolastico e relazionale. Un'attenzione particolare in questo momento lo stiamo dando anche in risposta a quelli che sono gli allarmi che la cabina di regia, che a livello nazionale saranno inoltrati, in quanto bisogna aumentare l'attenzione, ma non solo, penso che saranno prese delle decisioni di restrizioni degli ambiti operativi, sociali, da un punto di vista nazionale. Noi non rientriamo ad oggi tra quelle regioni maggiormente colpite. Per far scattare la zona gialla occorre che l'incidenza del virus superi i 50 casi per 100.000 abitanti. Soglia questa che in Abruzzo attualmente è di 186, ampiamente fuori del limite. Ciò che scongiura le restrizioni però è il tasso d'occupazione negli ospedali, la cui soglia è fissata al 10% per quanto riguarda le terapie intensive e al 15% per l'area non critica. In quest'ultima è occupato il 9% dei posti letto. Ma proprio nella giornata di ieri il tasso d'occupazione in terapia intensiva è cresciuto. Qui è occupato un letto su 10 ed è quindi raggiunta la soglia della zona gialla. Se la tendenza dovesse confermarsi, le restrizioni potrebbero arrivare nel giro di poche settimane. Le istituzioni locali possono applicare misure più severe rispetto a quelle imposte da Roma. In Abruzzo non stiamo valutando nulla di tutto ciò, ha concluso l'Averì. Non abbiamo indicatori particolari da ricorrere a ulteriori restrizioni. Anzi, come ho già detto, i nostri indicatori sono al di sotto di quelle che è la preoccupazione della media nazionale. Quindi per il momento assolutamente non prenderemo alcune iniziative.